Fedez continua a rimbalzare sulle copertine dei giornali gossip nelle quale appare insieme alla giovanissima Garance O.T.E., nuova fiamma del rapper dallo scorso aprile I paparazzi di chi hanno avvistato l'ex di Chiara Ferragni in giro per le vie Milano Nel corso della giornata documentata dal settimanale di Alfonso Signorini, i due che hanno sfrecciato a bordo della Ferrari del cantante di Sexy Shop, hanno pranzato all'hotel Bulgari per poi cenare da Carlo Cracco, ristorante nel quale era solito andare con la moglie, ed in seguito da Cipriani Nel servizio della rivista Gossip viene lanciata anche un'anticipazione sul video del nuovo singolo di Fedez realizzato con Amy Schilla dove vedremo protagonista proprio la O.T.E. Sulle pagine si legge anche che la modella francese aveva poco più di 3.000 followers e subito dopo l'avvio del flirt il profilo è esploso arrivando a quasi 60.000 Fedez e Garance, il primo incontro al Quakella. Si scopre inoltre che, la ragazza studia economia in una delle più prestigiose università europee, la IE University di Madrid, frequentata da studenti benestanti provenienti da tutto il mondo. Chi conosce Garance la descrive come una ragazza molto riservata, che studia e lavora, che finisce un esame, e poi prende il volo per uno shooting fotografico dall'altra parte del mondo, Fonte Chi. La giovane studentessa e modella avrebbe iniziato la conoscenza del celebre rapper nella primavera, quando i due si incontravano per la prima volta al Quakella. L'unica variazione in una vita tranquilla è il fatto che, tre settimane prima di apparire con lui al GP di Monte Carlo, avesse iniziato a seguire Fedez sui social. Come si sono conosciuti, lo scorso aprile al Quakella, il festival musicale che si tiene ogni anno in California, e che raccoglie star, modelle e influencer da tutto il mondo.